E' terminata con il terzo allenamento settimanale, la prima settimana della quarta edizione del progetto Non Stop, progetto dedicato ai calciatori per far sì che ritrovino un'adeguata condizione fisica in vista della nuova stagione. Come l'allenamento dei giocatori, anche l'allenamento dei portieri è sempre condiviso con lo staff, grazie a Marco Mingardi che è il secondo anno che mi ha coinvolto in questo progetto. L'allenamento dei portieri è strutturato in vari step, comincia con un'attivazione, tante volte la fanno con i prof, tante volte la fanno con me e dopo questa attivazione si comincia a fare l'adattamento a terra in base all'allenamento che abbiamo condiviso con i preparatori. Se c'è l'allenamento che richiede di andare subito a terra, noi dobbiamo lavorare soprattutto sui fianchi, soprattutto sulle rialzate, pronti per la ribattuta, oppure tipo stasera che è un allenamento pseudo del venerdì, abbiamo lavorato sulle palle alte, quindi comunque vada, tutti gli allenamenti sono sempre condivisi con lo staff. Dato che qua si fa lunedì, mercoledì e venerdì, hai modo di diluire il lavoro nelle tre fasi che lavori durante l'anno, quest'anno è la prima volta e ho voluto partecipare perché gli altri anni, bene o male, in questo periodo c'erano i vari tornei per cui quest'anno a maggior ragione avevo una motivazione in più. Ma diciamo che mi sto trovando bene perché mi sembrano gli allenamenti usuali durante l'anno e mi sto trovando molto bene anche perché ci sono dei buoni preparatori per cui mi trovo veramente bene. Infatti diciamo che ci sono delle grosse differenze perché non mi sono mai trovato in questa situazione, penso che nessuno di noi avrebbe mai immaginato di trovarsi in una situazione del genere, a livello motorio, a livello di coordinazione, diciamo che mi trovo un po' diverso rispetto agli altri anni, per cui penso che questa possa essere veramente una cosa che ci possa aiutare in previsione della prossima stagione. Mi sembra di essere una famiglia perché bene o male siamo tutti amici, siamo tutti ex compagni, per cui sembra veramente di essere praticamente in una squadra, perché tanti di loro ho giocato con loro, tanti di loro ho giocavo quest'anno, per cui sembra davvero di essere un pre-ritiro degli anni scorsi. Molto bene, un gruppo molto preparato che serve per ripartire per la nuova stagione. Sono molto specifici, piano piano si sta cercando di ritornare al livello di prima, con difficoltà ma è normale a causa del lockdown e piano piano si fanno passi in avanti. Lo consiglierei perché sicuramente è un'ottima esperienza da fare per prendere di nuovo forma per il campionato e ci sono allenatori molto professionali che stanno preparando bene i ragazzi e comunque è un'esperienza che va avanti da un mese, quindi è sicuramente molto importante da fare a livello proprio fisico per la professionalità di noi calciatori.